La tua cucina puore Elisabetta in madre E già il sesto mese Lei che ognuno diceva Essere donna sterile Quello darà la luce Il precursor di Cristo Non v'è in tutto il mondo Di lui altro più grande Ave Maria Ave Maria Così il messaggero Di Dio si espresse L'arcangel Gabriele Quando a Maria annunciò La nascita del figlio Allora Maria In fretta Il suo cammino Che c'è Per giungere alla casa Della cucina nana E di più bene dire Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria E quale sorte è questa Felice ed in attesa Oh madre del Signore Che in mia magione Vieni A farmi santo il figlio Appena la tua voce Appena la tua voce Che giunta ai miei onetti Il mio bambino Nel grezzo Di gioia esultato Di gioia esultato Il mio bambino Nel grezzo In criatura He veri Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria Grazie a tutti.